Siamo accorti perché ho visto picchiettare la mattina. E si è trovato così senza che nessuno spiegasse niente a nessuno cosa la pubblica amministrazione andava a fare. Questa per me è una gravità inaudita perché il cittadino è qui presente tutti i giorni. È una mara sorpresa quella che si sono trovati di fronte ai residenti di via Sicilia. Ci troviamo a pochi passi dal centro di Arezzo. Qui infatti sono iniziati i lavori per l'installazione di una torre di telefonia a poca distanza da alcuni condomini. Con quale criterio è stato possibile fare tutto questo? Una domanda sola. Benissimo, deve essere messa? Benissimo. Dove? Qui? Domanda. Davanti alle case? Ci sono bambini, anziani. C'è tanto spazio là dietro. I lavori sono iniziati lo scorso 25 gennaio. La buca è già stata scavata 5 metri per 5, dimensioni che fanno pensare all'installazione di una torre molto alta. Sembra un pendone alto di 30 metri. Sembra perché, ripeto, se qui capire cosa viene realizzato è praticamente impossibile. Davanti ad un edificio, davanti ad un altro edificio, davanti ad un terzo edificio, senza una minima preoccupazione di cosa viene fatto. Questo è a tutela del cittadino, ma non è possibile tutto ciò. L'antenna dovrebbe avere una potenza superiore ai 20 watt. La richiesta per la realizzazione della nuova infrastruttura per la telefonia mobile è stata inoltrata al comune di Arezzo lo scorso 4 ottobre da una società di livello nazionale. Con tutti gli spazi che ci sono si poteva fare una scelta diversa, individuare una collocazione diversa, perché nessuno qui è contrario a... Voglio dire, tutti utilizziamo i telefonini, tutti utilizziamo... Nessuno è contrario all'evoluzione, però tutto deve avere un criterio e se il criterio non c'è il cittadino si arrabbia. La rabbia lascia spazio però anche alle preoccupazioni sull'impatto dell'infrastruttura sia in termini ambientali che sanitari. Non è pensabile che tutte queste persone che stanno qui intorno abbiano questa struttura senza saperne gli effetti e le condizioni. Quindi faremo accessi agli atti, vedremo, vedremo le verifiche arpa eseguite, vedremo tutto fatto e dopodiché ad opera finita, se verrà conclusa, ma noi faremo di tutto perché ciò non venga fatto, questo è chiaro, faremo le verifiche del caso. Faremo interpellare anche l'arpa quando sarà necessario.